Buongiorno a tutti da Torino, la giornata non è bellissima, è un po' nuvolosa, però non è nuvoloso quello che vi racconto da tra poco. Innanzitutto benvenuti a tutti quelli che siete in platea in questo bellissimo auditorium di Caulonia. Ci sono state tre epoche nella mia vita con gli Alfa Time, prima, durante e dopo. In questo periodo c'erano sempre, ci sono e ci saranno. Vi racconto due ma ne tutti veloci. Allora il primo riguarda il grande Pino Cosentino che era il più piccolo del gruppo ed era quello più cercato dalle donne. In un periodo ce n'erano due o tre che gli stavano dietro e lui in qualche periodo mancava con gli Alfa Time, non riusciva a conciliare sia le donne che la musica, però è stato bravissimo. L'altro è Enzo Lucano. Mi ricordo sempre questa mossa che lui faceva con i capelli, con i liscioli d'oro. Che vi devo dire, sono stati gli anni, un periodo più bello della mia vita dove mi sono divertito insieme agli Alfa Time, abbiamo girato piazze importantissime, c'era un casino di gente come sempre. Non eravamo i pu, ma lo sembravamo. Mi ci metto anch'io, io facevo il presentatore piccolo piccolo. È stata un'esperienza bellissima e auguro a tutti voi che siete in platea, quelli che ci ascolteranno da casa e quelli che ci verranno dopo, le cose più belle del mondo. Le cose che auguro all'Alfa Time, ma da sempre. Un abbraccio grandissimo da Antonio Chiera da Torino.